L'Uccione della Nebbia Sono a disposizione dei visitatori una confortevole piscina d'acqua salata e le nostre riciclette per escursioni in bicicletta lungo il fiume e i canali minori sino al centro storico di Ferrara. La golona del fiume e la campagna emiliana che circonda il villaggio sono l'ambiente naturale più adatto per picniche passeggiate a cavallo. L'Uccione della Nebbia è la meta ideale per gli appassionati della pesca. I luoghi silenziosi immersi nella natura e decente a fiumi, canali o laghette artificiali ne fanno la base ideale da cui raggiungere svariate posizioni di pesca. Per chi volesse di più, l'attracco sul Po posto di fronte al villaggio offre la possibilità di escursioni fluviali a Ferrara, Mantua e Delta del Po fino al mare Adriatico. L'Uccione della Nebbia si trova a mezz'ora da Ferrara e ad un'ora dalle città di Modena, Bologna, Padova, Mantua, Verona e Rovigo.